Ben trovato, inizia un nuovo programma radiofonico by TT Sound. Non perderlo. Non vi allarmate, non è proprio un annuncio ma un racconto. Bentornati, io sono TT Sound e con me oggi? Io naturalmente. Cosa ti aspettavi? Vi raccontiamo una piccola storia che dedichiamo alla pandemia passata, se così si può definire, e ad un'altra ancora più assurda che dovrebbe arrivare. Sei sintonizzato su TT Sound Radio On Demand. Buon ascolto. Iniziamo con della bella musica orecchiabile, come sempre. Resta sintonizzato, non perderti questa puntata. Personal program. Non fermarti alla radio. Fai un salto sulle playlist di TT Sound. Ti aspettano svariati generi musicali mixati e remixati. Segui TT Sound sui social e sito web. Partecipa, supporta, recensisci, vota. For all the moon, the sun goes bad. I keep holding up, but I can't let it show. So hot, I'm trash. For so long, so hot, I cry. For so long. Shame to me and let you see. You still have a place in me. Shame to me and let it show. That I can't let it go. All this time, you're on my mind. I feel so tired to you. Shame to me and let you see. You still have a place in me. Shame to me and let it show. That I can't let it go. Shame to me and let you see. You still have a place in me. Shame to me and let it show. That I can't let it go. I'm loving on. I'm loving on. Bye-bye. Bye-bye. Grazie a tutti 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 Ci siamo, si comincia, tutta di un fiato, Malattia X Grazie a tutti La Malattia X potrebbe scaturire da luoghi con norme igieniche carenti Ma c'è speranza, gli studi possono aiutarci a prepararci e mitigare gli effetti Grazie a tutti Grazie a tutti Personal program, e così, mentre la Malattia X si diffonde, le DJ e TT Sound si uniscono in un concerto virtuale Le loro voci, le loro voci, le loro voci si intrecciano, la musica diventa un faro di luce nella tempesta, un ricordo che l'umanità può superare qualsiasi sfida, anche le più oscure E mentre il mondo lotta per la vuoi, le Lamattia e la mia via, le Vielf 느� cheerful, a pian piano, la miaUNTITIA, la mappa può superare la mia vita e la mia vita... E mentre il mondo lotta per sopravvivere, le DJ e TT Sound continuano a cantare, a sperare e a ricordare che, insieme, possiamo superare qualsiasi pandemia, qualsiasi malattia X che ci minacci Grazie a tutti. 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 Se ti prende fisicamente è attrazione. Se ti prende mentalmente è feeling. Se ti prende dappertutto è... Titi Sound Radio. Titi Sound Radio. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. ciò che la disinformazione gli trasmette tramite stampa e tv. Infatti quella si chiama propaganda e l'occidente è il creatore e detiene il copyright universale. Possibile non accorgersi? Siamo caduti così in basso? Molto più in basso di quanto credi. Tt Sound Radio On Demand. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.